I protocolli che ci sono stati dettati sono i protocolli rigidi, noi presidenti di associazioni e di società sportive abbiamo cercato di veramente attenerci scrupolosamente nel bene e nell'interesse di tutti e direi che da giugno abbiamo potuto riprendere l'attività per il quale abbiamo alla fine lavorato tutta la vita. Io personalmente sto dentro le palestre da 36 anni, insegno da 26 e trovarmi chiuso a casa con l'attività chiusa è veramente un enorme sofferenza, un enorme disagio. La sicurezza che abbiamo è massima così come prevedono tutti i protocolli di sicurezza dettati anche dal CONI o dagli enti di produzione sportiva. La gente deve tornarsi a fidare, rispettare le prescrizioni e ricordare sempre che lo sport prima di tutto è salute. È un po' un controsenso aver tenuto i cruzi alle palestre? Beh, è un controsenso perché effettivamente è come se io togliessi parte della salute al corpo e quindi è strano che se io devo rinforzare le difese immunitarie non possa fare l'attività fisica. Quando la scienza oggi ci dice che l'attività fisica è la base per il potenziamento delle difese immunitarie. Devo ritenere che hanno approfondito le argomentazioni scientifiche e hanno ritenuto questo veramente un'esigenza fondamentale per il bene di tutti. Noi l'abbiamo rispettata però adesso è giusto che gli atleti tornino ad allenarsi, tornino a fare ciò che amano, che gli insegnanti tornino a fare ciò che amano e soprattutto tornare a fare salute all'interno di una palestra dove si fa fitness.